Il ruolo del cittadino nella difesa dell'ambiente è sicuramente importante, soprattutto adesso che la Riviera dei Ciclopi, per colpa di molte persone con scarso senso civico, viene oltraggiata con l'abbandono dell'immondizia in ogni angolo del territorio. Un conferimento di qualsiasi rifiuto su un marciapiede va a modificare inevitabilmente lo status quo del luogo, comportandone una compromissione. Ma nonostante le multe per il conferimento non a norma dei rifiuti, c'è chi persevora con i comportamenti regolari e continua ad abbandonare sacchi di spazzatura in ogni angolo delle quattro frazioni. Il primo cittadino ha espresso il suo supporto per aver certificato, dopo l'apertura di alcuni sacchi, che tra chi non conferisce correttamente i rifiuti e li getta nelle piazze, ci sono anche cittadini insospettabili. Come potete vedere si trova praticamente di tutto nelle strade, in ogni angolo del comune di Eci Castello, una parabola come vedete qui, ma abbiamo anche un asdraio, un ombrellone, insomma c'è di tutto, c'è anche scatole di prodotti alimentari, ma è veramente un continuo, una discarica ce l'ha aperto in ogni angolo del comune riverasco ed è veramente un dispiacere enorme, soprattutto adesso che si avvicina anche la stagione estiva, il caldo, insomma vedere sempre questi sacchi, questa spazzatura e soprattutto questi oggetti che veramente sono incredibili, trovarli a due passi dal mare, come avete visto una parabola satellitare. Insomma, chiederemo al Sindaco Lumi anche su questa problematica che assilla veramente da Cicastello e che purtroppo non si riesce a mettere la parola fine. Tutto il mondo è paese, anzi direi che tutta l'Italia è paese, anche per allargare un po' i nostri orizzonti. Centinaia di sanzioni amministrative fatte nei confronti di chi è stato individuato come conferitore, io direi serial conferitore di rifiuti abbandonati. E adesso il grande lavoro fatto dal Consiglio Comunale con l'approvazione del regolamento sulle fototrappole che ci consentirà ancora di più di essere presenti nel territorio e di controllarlo. E poi le attività che l'ufficio sta mettendo in modo verificando tutti coloro residenti o proprietari di abitazioni che hanno già ritirato i contenitori rispetto a chi non li ha ritirati. Si presume che chi non ha ritirato i contenitori debba delle spiegazioni su come conferisce i rifiuti. E pertanto al momento ci sono varie attività fatte nel territorio proprio per mettere a punto tutto e rispettare chi la fa con grande passione e colpire chi invece non la fa. Avete individuato anche se sono degli avventori occasionali o ci sono anche dei residenti? Per esempio direi al 50%. L'ultima che più mi ha dato dispiacere è di una discarica con inerti, con delle opere di manutenzione e svuotamento di cantine e garage che purtroppo fa parte, fa riferimento dalle indagini fatte dalla Polizia Municipale a dei nostri concittadini che saranno naturalmente convocati a breve presso il comando della Polizia Municipale per verificare se la sanzione ha il solo contenuto, il connotato della sanzione amministrativa ovvero invece le attività da porri net in essere sono diverse e si riferiscono ad altri ambiti.